Coppino Greco, scappuzzella, uno dei più feroci killer di Cosa Nostra, non potevi discludere nemmeno per chi aveva la precedenza un incrocio. Di una lite con un camionista di questo Giuseppe Greco Scarpa. C'era un camionista, un autotrenista, comunque per la precisione un articolato, non era un autotreno, gli tagliò la strada. Poi gli salì sul camion della cabina e gli sparò 5-6 colpi di revolvere e lo lasciò pensolare dalla cabina.